procediamo con la seconda tavola rotonda vediamo con la regia con chi appunto parleremo bene abbiamo colliker il dottor diego fiorenzuoli eccolo qua direttore customer experience abbiamo mce lo vedo lì dottor massimiliano perini managing director e poi abbiamo movion l'ingegnere valerio apicella research and development smart energy specialist grazie mille grazie mille a voi potete accomodarvi prima di ascoltarvi vediamo di rispondere assieme a questo sondaggio il sondaggio dice dato il forte focus dei brevetti nazionali sulla decarbonizzazione dei trasporti trovate che le tecnologie disponibili a mercato siano e qua ci sono tre opzioni da scegliere quindi molte innovative poche innovative non innovative il codice è sempre quello 4 3 7 9 6 9 7 2 allora dottor fiorenzuoli coeligra anzitutto ben ritrovato venuto con la micro lino no ai ways oggi sempre elettrica ma un po' grande bene bene allora abbiamo visto la puntata di presa diretta su rai 3 dello scorso 9 ottobre dedicata alla scossa elettrica che cosa è emerso sono emersi dei dati molto che collimano con quelli del nostro rapporto insomma male l'italia dice su presa diretta si parlava dell'ultimo mercato in europa ebbene però il resto del mondo quindi bene e male a questo punto qual è l'offerta di prodotti per le diverse tecnologie di di business clienti business e consumer e soprattutto che cosa manca dal vostro punto di vista per la diffusione della mobilità elettrica in vista appunto del 20 30 prego sì ma diciamo assolutamente come emerso anche dalla presentazione iniziale del professor bertelè i trasporti è una delle aree più impattate per il futuro dove si bisogna recuperare più strada rispetto ad altri settori in italia siamo molto indietro ciò nonostante l'offerta c'è l'offerta c'è già anche se è vero che si intensificherà in termini di prodotti full electric soprattutto nei prossimi due anni quando verranno messi a terra diversi progetti prodotti che sono in fase di sviluppo soprattutto parlando anche di auto nei segmenti più piccoli perché si è partiti come industria in quelli un po più alti anche per ammortizzare la differenza di costo delle batterie attendere nei prossimi due anni 24 25 ci sarà quindi un'offerta più ampia che andrà a coprire segmenti anche più appetibili per il cliente l'offerta c'è già dicevo anche noi come colliker offriamo già oggi nelle due reti di concessionari passenger e work dedicata quindi all'azienda e prodotti professional diversi prodotti elettrici hai citato micro lino questo piccola vettura un po di design di mobilità urbana elettrica prima ancora offriamo anche mobilità due ruote con degli scooter di ascol per poi salire a quella che è la gamma di autovetture un po più performanti su full electric dei marchi mitsubishi motors kgm che è la vecchia san yong e highways c'è poi una divisione dedicata ai veicoli professional con una rete dedicata dei concessionari lì l'offerta è quasi totalmente elettrica abbiamo più di dieci prodotti full electric vanno da piccoli veicoli commerciali 3 4 ruote poi a salire veicoli tre tonnellate e mezzo fino a arrivare le sette tonnellate e mezzo quindi l'offerta oggettivamente c'è già sul mercato perché siamo così indietro in italia le motivazioni ci sono sono tante la principale mi viene da dire che è di stampo anche politico manca forse la volontà politica di far partire una vera e propria spinta alla transizione verso la mobilità elettrica in altri mercati abbiamo visto negli anni passati già da dieci anni fa presentare offrire incentivi al consumatore finale alle aziende che hanno fatto partire il mercato non l'hanno drogato ma l'hanno fatto partire con una sorta di volano e oggi stanno andando avanti per per inerzia con l'offerta che c'è in italia quest'oggi non c'è abbiamo degli incentivi li abbiamo effettivamente ma con diversi limiti siamo l'unico paese europeo a incentivare anche veicoli inquinanti alla ruota fino a 135 grammi di co2 al chilometro c'è un cap per i veicoli elettrici dove che esclude automaticamente metà dell'offerta oggi presente sul mercato quindi c'è un incentivo ma per come è disegnato è veramente poco efficace e si vede anche nei numeri perché è poco utilizzato c'è poi magari anche un discorso di infrastrutture anche se stanno aumentando molto le infrastrutture di ricarica su strada dalle ultime ricerche di settembre l'aumento negli ultimi due anni di circa mille punti di ricarica al mese quindi chi usa un'auto elettrica lo sa ci si muove ormai abbastanza agevolmente rimangono magari dei piccoli punti da migliorare la mobilità autostradale oggi ci sono infrastrutture di ricarica fast su diverse tratte ma non è ancora così capillare così come la ricarica urbana notturna oggi nelle città abbiamo ovviamente diverse colonnine ma i garage soprattutto nelle grosse città sono un bene quasi di lusso quindi va poi sviluppata quella che è la possibilità di caricare in strada durante la notte dottor pierini mce doppia crescita allora cresce il mercato dell'installazione degli impianti civili e industriali in italia pensato un po cresce al passo di 3,6 volte parlo del 22 rispetto al 21 avete presentato voi dei dati con cresme e poi cresce ho parlato di doppia attesa cresce anche l'attesa per mce la mostra convegno la conoscete voi siete tanti lavorano in quest'ambito dedicata all'impiantistica in programma tra ho fatto i conti tra 146 giorni senza peraltro più la ripartizione mi sembra di aver visto ripartizione caldo e freddo insomma una bella novità che cos'è il beyond comfort di cui voi state parlando che cos'è l'andare e che ruolo può giocare appunto nella transizione per gli edifici ai fini della transizione energetica degli edifici prego buongiorno a tutti diciamo che mostra convegno spot comfort è il grande contenitore dell'impiantistica civile industriale è naturale che noi guardiamo a questa transizione con grande con grande speranza e attesa diciamo siamo il grande contenitore dicevo proprio perché facciamo incontrare domande offerta abbiamo capito che per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che abbiamo dobbiamo passare attraverso il residenziale l'industriale terziario quindi questo diciamo sono i tre pillar importantissimi l'industria crediamo sia ormai pronta a questa transizione c'è ovviamente un problema normativo insomma sappiamo tutti cos'è successo col col super bonus però noi siamo molto molto fiduciosi del fatto che proprio per la prontezza dell'industria noi riusciremo a centrare in gran parte i nostri obiettivi diciamo che mostra convegno ha un'attenzione particolare perché da sempre abbiamo nel nostro dna la parte seminariale quindi avremo anche un programma estremamente importante dal punto di vista dei contenuti lavoriamo con tutte le principali istituzioni e come dicevo prima crediamo che appunto questi settori che noi esprimiamo siano fondamentali per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo previssati raccogliamo industria da tutto il mondo quindi abbiamo la possibilità di fare il punto della situazione del meglio della produzione mondiale questo sicuramente è un grande punto di vantaggio l'Italia gioca un punto determinante per lo sviluppo delle imprese e diciamo che l'Italia da sempre in questi settori esprime un'eccellenza quindi noi siamo estremamente attenti a tutta questa tematica e aspettiamo il 2024 proprio come uno dei punti cardine di svolta dove si tratteranno temi estremamente importanti grazie mille a dottor Pierini regia prego attenzione alle frequenze gravi dei microfoni c'è molto riverbero allora proseguiamo con l'ingegnera Picella di Movion veniamo appunto al braccio tecnologico di autostrade quali sono le soluzioni le tecnologie che voi state sviluppando per supportare questo processo di decarbonizzazione prego buongiorno a tutti e grazie mille per la domanda sì prima di tutto è opportuno menzionare comunque che come gruppo Autostrade per l'Italia abbiamo dimostrato un forte impegno per supportare praticamente la pervasione crescente dei veicoli elettrici quindi attualmente sull'infrastruttura autostradale gestita da noi ogni due aree di servizio si trova una stazione di ricarica quindi è possibile attualmente andare a percorrere lo stivale utilizzando un veicolo elettrico come Movion chiaramente stiamo cercando delle soluzioni per rendere l'infrastruttura autostradale sempre più un abilitatore alla mobilità sostenibile e alla decarbonizzazione quindi in primo luogo stiamo lavorando guardando a quelle che sono le stimi del PNIE che speriamo che vengano chiaramente raggiunti i target al 2030 e ci aspettiamo in questo contesto chiaramente che all'aumentare del numero di veicoli elettrici chiaramente bisognerà ottimizzare in qualche modo l'infrastruttura di ricarica in generale dal modo quindi stiamo sviluppando delle soluzioni, degli algoritmi che potranno indirizzare, comunicare ai veicoli quale area di servizio è più conveniente dal punto di vista delle tempistiche per ridurre le code eventualmente da un altro lato sappiamo anche che un aumento della domanda di energia elettrica ma anche in termini di potenza, di contemporaneità richiederà una maggiore ottimizzazione dei flussi di potenza all'interno delle aree di servizio quindi stiamo sviluppando degli energy management systems, quindi degli algoritmi che permetteranno di minimizzare lo scambio con la rete di distribuzione e massimizzare l'utilizzo delle fonti rinnovabili sempre in questo contesto stiamo cercando ulteriori fonti rinnovabili complementari al fotovoltaico e proprio in questi giorni stiamo testando un dispositivo in grado di recuperare energia cinetica dal traffico per convertirla in energia elettrica un altro macro trend sul quale stiamo lavorando sempre in Movion riguarda lo sviluppo di sistemi CITS quindi sistemi di trasporto intelligenti, collaborativi, cooperativi che permetteranno di abilitare la guida autonoma sembra un po' una tematica distante dalla decarbonizzazione in realtà è strettamente connessa infatti la guida autonoma permetterà di ottimizzare il traffico e l'utilizzo della rete autostradale quindi diminuire le congestioni e automaticamente diminuiranno i consumi ed anche le emissioni dei veicoli in transito sulla nostra rete bene, abbiamo capito una visione a 360 gradi sento sempre un riverbero che sembra che, non so se lo sentite voi che siamo, come dire, nel paradiso no, ce n'è ancora di strada da fare per la decarbonizzazione per arrivare al paradiso quindi regia, veramente, occhi alle frequenze gravi c'è molto riverbero, lo sentiamo qua procediamo, vediamo il sondaggio che cosa, che risultati ha dato la domanda era, veniamo al giudizio dato il forte focus dei brevetti nazionali sulla decarbonizzazione dei trasporti trovate che le tecnologie disponibili a mercato siano il 63% dice poco innovative e poi appunto a seguire non innovative e molto innovative insomma, dottor Fiorenzuoli sembra un po' un mezzo pieno, un mezzo vuoto, no? sì, 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 sicuramente ma diciamo che sicuramente in questa fase legata a una necessità sia legale che sociale di decarbonizzazione l'innovazione è molto importante è importantissima mi viene forse un collegamento con la presentazione iniziale del professor Betelè laddove è anche importante che l'innovazione in questa fase rimanga legata alla società venga anche spiegata alle persone perché c'è il rischio quando si parla di tecnologie di brevetti di innovazione sia tecnologica ma anche se vogliamo normativa, legislativa c'è il rischio che degli strappi in avanti spinti o guidati comunque dalla comunità europea dalle necessità di decarbonizzazione di miglioramento dell'ambiente non vengano percepite correttamente da quella che è la base della società quindi le persone che sono qui in questa stala e anche fuori creando poi un disapore che a sua volta rallenta la decarbonizzazione noi lo vediamo moltissimo appunto nella mobilità laddove le polemiche a livello politico anche molto elevato le battute poi creano una sorta di polarizzazione di spaccatura che non fa bene a nessuno perché blocca il mercato e fa anche passare messaggi che a volte non sono chiari non sono neanche corretti quindi è benissimo andare avanti con l'innovazione con lo sviluppo di brevetti siamo indietro anche come Italia l'abbiamo visto prima molto importante credo che rimanga tutto legato ben spiegato e che venga fatto sgocciolare mi viene questo termine verso il basso per portarsi dietro poi chi i prodotti li andrà a utilizzare le case le andrà ad abitare e così via proseguiamo con il dottor Pierini MC allora abbiamo detto un sondaggio che un sondaggio insomma mezzo pieno forse mezzo vuoto come la vede lei? l'innovazione ovviamente è il driver fondamentale delle aziende che rappresentiamo quindi innovazione come giustamente hai detto tu prima è anche il cambio in una grande fiera di un layout dove ormai parlare di climatizzazione caldo-freddo non ha più senso, è anacronistico e quindi noi abbiamo unito i settori della climatizzazione passa anche da quello ovviamente la nostra innovazione è legata molto anche all'aspetto normativo normative che vengono calate dall'alto e che in molti casi devono far stravolgere quelli che sono i progetti delle aziende insomma quando abbiamo termini molto brevi regolatori è ovvio che l'industria fa uno sforzo enorme per adattare i propri prodotti a parlare del 2030 per un'industria è praticamente domani mattina in molti casi l'introduzione di nuovi parametri significa riprogettare da zero quelle che sono i prodotti e questo noi lo rappresenteremo in fiera proprio perché avremo delle zone dedicate proprio all'innovazione essendo una fiera biennale abbiamo e industriale abbiamo proprio bisogno di far emergere quelle che sono le principali aziende che innovano perché in questo modo diamo una visione esaustiva di quanto di meglio ci sia oggi a livello produttivo grazie Ingegnere Apicella, Movion un anno fa era settembre del 22 voi avete inaugurato l'Experience Center a Milano e quindi ci avete presentato tante tecnologie nello specifico quali tecnologie per i trasporti intelligenti possiamo vedere nell'Experience Center e non solo? Prego Sì, allora sicuramente possiamo vedere tecnologie relative alla gestione della viabilità e del traffico quindi come dicevo prima sono noto un po' magari a tutti il progetto Falco che stiamo seguendo sostanzialmente sono delle tecnologie che permetteranno di efficientare sempre di più la mobilità sull'autostrada renderla più sicura e più decarbonizzata e magari guardando un attimo questo sondaggio un piccolissimo commento è un po' un risultato tiepido me lo aspettavo sostanzialmente perché viviamo in un momento in cui sì mobilità elettrica ok ma non c'è l'infrastruttura ok ma non riesco ad arrivare dove devo andare ok ma ho problemi quindi c'è molto molto scetticismo quindi questo si ripercuote chiaramente nella inventiva prelettuale e quello che posso dire ricollegandomi di nuovo a quello che stiamo facendo noi è che abbiamo colto un po' la sfida tra virgolette nel senso fino ad ora molto era demandato all'industria automotive e noi come gestore dell'infrastruttura abbiamo capito che dobbiamo supportare comunque questo nuovo paradigma della mobilità bene allora grazie mille a dottor Fiorenzoli che l'Iker la scorsa volta alla Smart Mobility abbiamo annunciato l'apertura della nuova sede di Gallarate a questo punto vogliamo sapere la data quando è che dobbiamo venire domandona no noi ci stiamo trasferendo come uffici entro le prossime tre settimane l'apertura al pubblico di questo nuovo concept di showroom di mobilità allargata quindi dalle 2 alle 3 alle 4 alle 6 ruote con punti di ristorazione quelli che rub come lo chiamiamo sarà presumibilmente entro la fine dell'anno penso a dicembre bene bene allora ci diamo appuntamento a dicembre per la nuova sede di Gallarate di Köleger grazie mille a dottor Pierini a MCE una domanda flash abbiamo visto a proposito di edifici i visual vibes fatti promossi da Viscom Italia che si è chiusa pochi giorni fa a questo punto la domanda è che cosa dobbiamo aspettarci per MCE cosa ci farete vedere cosa tanti contenuti credo che la parte progettuale per noi sia la parte principe quindi tanti contenuti seminari di altissimo livello sulla progettazione del futuro in collaborazione con i più importanti studi di progettazione italiani che però operano in tutto il mondo e poi ovviamente l'innovazione quindi far emergere tutto ciò che è innovazione bene allora lo dico io arrivederci a Roffiera il 12 marzo del 24 giusto ho detto bene grazie mille all'ingegnera Picella Movion quindi vi chiedo di accomodarvi dopo una foto prego facciamo una foto eccoci qua